Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Sulla FIPILI Berlavori chiusa l'uscita di Livorno Aurelia in direzione Firenze fino alle 18. Su raccordo Siena-Bettolle per lavori, restringimento di carreggiata all'altezza di Castelnuovo Berardenga, chiuso in entrata e uscita lo svincolo di Colonna del Grillo in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia per lavori, chiuso lo svincolo la California-Cecina-Sud tra Cecina e Bibbona, in ingresso e uscita in direzione Grosseto. Chiudiamo con i traghetti, a causa delle avverse condizioni meteo i collegamenti con l'Isola d'Elba stanno subendo cancellazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.